Si è partito Bene Miau a tutte Bello sto sole che ogni tanto mi riflette sulla face Dopo 100 milioni di anni Che non ne faccio uno Sto per fare un video reaction E onestamente volevo anche non farli più Volevo limitarmi tipo a fare solamente L'album reaction O cose del genere perché altrimenti dovrei farlo Di ogni singolo video E voi io non li trovo neanche così interessanti Nonostante a voi piacciono un sacco Ma va bene Non voglio perdermi in troppe chiacchiere In questo caso specifico lo voglio fare Perché Federico ha detto che secondo lui È tipo il più bel video che hanno mai fatto Quindi io sono stra mega curiosa E ho detto vabbè ok Lo faccio in un video Cioè lo guardo in un video Così insomma anche tutte le altre fans Possono dirmi cosa ne Cosa ne Su sole vabbè Cosa ne pensano In fondo c'è la mia gatta Cioè Pipina Che non Non è minimamente interessata A mostrarsi a voi Ma tanto io adesso Mi ci metto davanti Così qua Potrete vedere il fantastico video Insieme a moi Che invece lo guardo Voci in sottofondo dei giardinieri Io innamorata Della loro recitazione Federico La sciuccia in testa Perché Ma loro per essere eluse Allora Come mai Benjamin È così illegale In questo video Io distrutta innamorata Per Benjamin Con quei guantini di pelle Che è tutto No però Stamai a squadresi Tipo fans No Io come la vecchina che balla Nuovo cinema Clic 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 Nuovo cinema Clic 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 Perché Questo gesto Mi piace Questo gesto Solo Sempre così Allora Scusa Vivi No vabbè Non mi ho neanche calcolata Allora Il video è adorabile Mi piace tantissimo Forse è il primo video Loro che mi piace Sul serio No vabbè Sì Mi è veramente piaciuto È carina E divertente E simpatico Loro sono topi E topini al tempo stesso Perché non guasta mai La canzone in sé per sé Mi piace La trovo molto commerciale Ma non c'è niente di male Nell'essere commerciale Perché Sì Non c'è niente di male Io principalmente Ascolto la musica commerciale Quindi Spero vivamente Che il resto dell'album Mi piaccia Quanto I due singoli usciti Perché anche Buona Fortuna Mi è piaciuta tantissimo Quindi Speriamo Super mi raccomando Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questo video Che cosa ne pensate Della canzone E boh Basta Se vi va Seguitemi Su Instagram Ciao Mi sono spostata In un altro punto Della stanza Perché vicino alla finestra C'erano i giardinieri fuori Che cominciavano A guardarmi un po' Tipo così E mi sentivo Troppo imbarazzo Quindi mi sono spostata Tanto il video Era arrivato alla fine Praticamente Di conseguenza Mi limito a salutarvi Insieme a Bibi Che mi sta odiando Probabilmente Però va bene Ancora mi spiano Ciao Ciao